Altri tre autobus sono arrivati questa mattina da Palermo, mezzi da 12 metri che potenzieranno la flotta TM in parte già rinnovata con l'acquisto dei primi 14 entrati in servizio tra febbraio e marzo. Ad aggiudicarsi il bando pubblicato lo scorso anno dal Dipartimento Mobilità Urbana di Palazzo Zanca, l'industria italiana autobus nata dalla fusione delle aziende Iveco e Breda Menarini. 690.000 euro è finanziamento messo a disposizione dal Comune. I nuovi bus da 12 metri dovrebbero entrare in servizio con il prossimo orario estivo in vigore dal 2 luglio. Saranno impiegati sulla linea numero 79, quella che Palazzo Zanca e da TM intendono potenziare per decongestionare il traffico nella riviera nord. Previste infatti partenze dal Cavallotti verso Torre Faro ogni 15 minuti, compreso il servizio notturno per la Movida. Il numero dei mezzi in dotazione alla TM è destinato ad aumentare. Nei giorni scorsi sono stati pubblicati altri due bandi per la fornitura di autobus. Le offerte dovranno essere presentate entro il prossimo 22 luglio. Previsto l'acquisto di sei mezzi da 12 metri e 26 da 8 metri per un investimento complessivo pari a 6.580.000 euro.